ciao a tutti oggi parleremo delle ostriche è una delle cinque puntate che faremo sono uno dei prodotti più spregiati esclusivi al mondo ma è un prodotto che è pochissimo conosciuto non esiste una sola ostrica in commercio ma bensì più di mille tipi di specie e di qualità è come il vino e dico sempre l'ostricoltore è bravo poi a variare la tipologia di gusto grandezza corposità del prodotto e anche l'aspetto la prossima puntata parleremo delle specie di ostriche delle loro provenienze e cosa vuol dire triploidi ci vediamo la prossima volta vi raccomando di mettere mi piace commentate condividete condividete con i nostri amici buon pesce a tutti